Sono state assegnate le 10 borse di studio per la formazione dei tecnici di rugby su base regionale. Sono riservate gli studenti del terzo anno del corso di laurea in scienze motorie e sportive e della laurea magistrale in scienze tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate dell'Università degli Studi di Perugia. Il bando è stato ideato e finanziato dal Comitato regionale Umbro della Federazione Italiana Rugby, la FIR, grazie al supporto della Federazione Nazionale e dà continuità alla convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia. La durata del progetto sarà di 10 mesi e prevede varie attività formative e un tirocinio da svolgere presso i club e le scuole del territorio. Le persone selezionate riceveranno, oltre alla formazione gratuita, una borsa di studio di 2.000 euro. Grazie. Grazie.